Un altro fatto che sta intervenendo è l'aspetto divino. Perché l'aspetto divino interviene? Perché Dio ha un progetto, il progetto di Dio è il regno, il nuovo regno. Quindi essendo le forze del bene enormemente meno numerose e più deboli da tutti i punti di vista di quelle del male, cosa fa? Dio entra nella storia di nuovo e divide il potere anticristico in due fazioni e li mette in guerra tra di loro, affinché queste due fazioni negative si annichiliscano tra loro e il bene possa trionfare. Quindi la vera causa di ciò che sta accadendo nel mondo oggi è questa. Non è Putin, non è Biden, non è Draghi, non è Berlusconi. C'è un progetto grandioso che ha deciso di porre fine a questo atteggiamento devastante dell'umanità terrestre, fermare tutti, tutto, intervenire e salvare il salvabile. È tutto scritto nel libro dell'Apocalisse di Giovanni. Non è un libro di religione, è un libro dove Dio, Cristo, a un profeta gli dice spiegagli a quei deficienti che se non cambiano che cosa accadrà. Infatti Gesù dice ecco io vengo presto e renderò a ciascuno secondo le sue azioni, non secondo i credo religiosi, secondo le azioni. Quindi il credo non serve a nulla, è come cucinare un cibo e poi non mangiarlo. Quindi se noi abbiamo capito il messaggio dobbiamo agire perché noi facciamo parte della società, non siamo fuori dalla società. Messaggio del 1983. Sconvolgerò le menti dei potenti e farò crollare su di loro e sui loro partigiani i feticci delle loro diavolerie innalzate contro il mio volere. 1983. In un precedente comunicato ricevuto dallo scrivente nostro fratello il monarca celeste disse sconvolgerò le menti dei potenti e metterò l'uno contro l'altro i loro perversi spiriti. Ecco questo processo è in atto e l'anticristo padrone del mondo è in seria difficoltà perché sa che i suoi giorni sono contati. In quanto il dio degli eserciti è in arrivo tramite suo figlio il messia Gesù Cristo e egli sarà accompagnato da dodici legioni di angeli con i quali scenderà dal cielo con potenza e gloria. Curiosamente il messaggio è del 2014 quando vengono i fatti in Ucraina, piazza Maidan e strage di Odessa da dove inizia il processo finale che ci ha portato alla situazione attuale. Quindi è tutto concatenato e c'è questo grandioso piano di giudizio, di salvezza e di condanna su tutto il genere umano. Lo conosciamo è un termine che è stato chiamato giudizio universale. Non era un credo religioso, è un fatto legato alle nostre azioni, al nostro comportamento. Non è un credo religioso, è un fatto storico, è un fatto sociale, è un fatto politico, è un fatto militare. Quindi abbiamo visto c'è l'attività degli uomini angelo, quelle legioni di cui parla Cristo, l'intervento di Dio che separa le due fazioni del male e le mette l'una contro l'altra e poi c'è il terzo incomodo, o meglio il terzo comodo, gli eletti.